L'Italia dovrebbe aver raggiunto l'obiettivo delle 500.000 dosi al giorno, lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo nel corso della puntata di ieri a porta a porta. I dati mi danno una proiezione di una forbice tra le 480 e 520.000 che dovrebbe essere attorno al target, ha detto, sottolineando che ci sono le potenzialità per arrivare anche a 600-700.000. Inoltre ha aggiunto che entro la metà di luglio il 60% degli italiani dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose di vaccino, con l'immunità di greggio stimata per la fine di settembre. Intanto continua il calo della curva in tutta Italia. Nell'ultima settimana si è infatti riscontrato un decremento rispetto ai giorni precedenti, dal totale dei casi positivi a quello dei decessi, passando per i dati delle terapie intensive. Incidenza stabile nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della regione Campania, che ieri ha registrato poco meno di 2.000 casi. Sono 137 le unità occupate in terapia intensiva, mentre aumentano i posti disponibili in degenza. Nelle giornate di ieri, però, il presidente Vincenzo De Luca si è lasciato andare ad una nuova polemica sulla gestione della campagna vaccinale. La campagna ha 207.000 vaccini in meno rispetto alla sua popolazione, ha denunciato il governatore campano, definendo delinquenti chi toglie dosi alle regioni che ha la densità abitativa più alta di Italia e d'Europa. Sguardo anche alle prossime riaperture, per la prima volta dopo un anno, buona parte degli italiani potranno passare il primo weekend di festa in libertà o comunque con un sensibile allentamento delle restrizioni. Possibili, infatti, gli spostamenti tra regioni gialle e chi ha la possibilità di poter usufruire del passo immunitario. Sulle strade saranno comunque intensificate le attività delle forze dell'ordine, che solo nelle ultime 24 ore hanno controllato oltre 100.000 persone con 888 sanzioni e 4 denunce. Grazie a tutti.